ciao a tutti amici siamo a bordo di una Jeep Compass vediamo come regolare l'orario per cui non andiamo su questo menu del display ma andiamo nel menu radio entriamo in impostazioni vedete che nell'impostazione abbiamo tutto il menu a tendina con tutte le varie diciture andiamo a cercare ore data qui è veramente troppo semplice regola l'ora con un più con un meno i minuti o se vuoi il formato 12 24 ore si conferma facilmente solo con una X e si ritorna alla radio ciao